Finisce nel tritacarne mediatico nazionale il post di un consigliere comunale di Frosinone vicino a Fratelli d'Italia, Marco Ferrara, che ha pubblicato sulla sua Bacheca Social un fotomontaggio dove si vede l'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz con la scritta «Il vaccino rende liberi». Putiferio in ogni dove, stampa nazionale all'azione che stigmatizza e riporta decine di interventi politici di varia estrazione contro la trovata, infelicissima, del consigliere comunale di Frosinone. Il gruppo di Fratelli d'Italia, di Frosinone, si è subito dissociato dall'accaduto. Il sindaco della città, Nicolo Ottaviani, è intervenuto una prima volta per condannare senza sé e mal accaduto una seconda per difendere Ferrara, sottolineando che il consigliere si è scusato. Peggio, i commenti sulle pagine social si sono moltiplicati comeppure via via si è aggiunta nella diffusione dell'accaduto la gran parte della stampa nazionale. Tra i locali spicca il commento del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, il quale chiede al sindaco Ottaviani di mettere da parte questa volta la sua proverbiale ironia e prendere provvedimenti seri nei confronti di Ferrara, perché sull'accostamento tra olocausto e vaccino anti-covid c'è poco da scherzare. E sono davvero in tanti i politici a chiedere le dimissioni.